Se ci saranno delle novità vi faremo sapere. Quando e se ci saranno delle novità vi faremo sapere. Le dichiarazioni del Ciolo Simeone non sembrano sicuramente invitare all'ottimismo riguardo al regolare svolgimento della Liga. Lo sconto tra le cosiddette G13, in pratica le piccole, del campionato spagnolo e di Colossi, Reale e Barça non sembra quindi destinato ad una soluzione in dolore. Dopo una riunione fiume di 14 ore in Lega Calcio si è trovato un accordo valido almeno per la prima giornata. La pietra dello scandalo stavolta è stato l'orario di alcune partite. La serata di 13 e si fa delle due esigenze televisive. Simeone ed altri tecnici hanno ritenuto questa decisione veramente oltraggiosa. Una vera e propria mancanza di rispetto nei compunti di chi lavora nel mondo del calcio. Sicuramente dichiarazioni non concilianti che lasciano prevedere un peggioramento delle relazioni e un possibile scioglio. Semplicemente non siamo affatto d'accordo su questa decisione. Riteniamo che sia una mancanza di rispetto verso tutti, i giocatori, i tifosi, tutti quelli che vivono nel mondo del calcio. Insomma non so cosa dire. Quando una partita inizia alle 11 e finisce a luna di notte. Insomma non lo so. Mi sembra una cosa oltraggiosa. Sta terminando la sera 1 della maniera. Mi sembra davvero ridicolo. Senta raro. Un raro. Vacanza di dispetto, divisione della torta dei diritti. Però la lita partirà come è previsto. Ma niente è sicuro. Grazie.